grazie a Semeraro ho comprato questa splendida cucina e mi hai dato tutta la casa ma suona! mi hai pure qua ma come hai fatto a comprarti questa bella cucina? da Semeraro puoi perché paghi quando vuoi senza voce di pura curiosità ma dove ci trovi? su Semeraro in viaggi in anni 1956 ma che fai? in viaggi in anni 1956 Semeraro a Torino Goppermark